buongiorno bambini stamattina raccontiamo una storia bellissima i tre porcellini è tutto qua dentro si chiama fiaba nel cesto siete pronti allora c'erano una volta tre porcellini timmy tommy e jimmy un giorno la mamma li chiamò e gli disse bambini ormai siete diventati grandi eh dovete costruirvi ognuno una casetta va bene mamma ok e i tre porcellini andarono a cercare qualcosa per costruirsi una casetta il primo porcellino si costruì una casetta di 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 paglia eccola qua la casetta di paglia e si chiude dentro il secondo porcellino si costruì una casetta di legno eccola qua casetta di legno e il terzo porcellino si costruì una casetta di mattoni ma da quelle parti c'era un lupo affamato che era goloso di porcellini infatti un giorno il lupo andò alla casa del primo porcellino disse il porcellino tutto impaurito solo il lupo fammi entrare no no e poi no brutto lupaccio vai via ah no allora sofferò 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 e buttò via la sua casetta volò via aiuto aiuto corse il porcellino eh corse dai fratellino con la casetta di legno eh eccolo qui nella casetta di legno col suo fratellino e anche lì arrivò il lupo avversa così sive tutti i porcellino sono il lupo mi offrereste un tè no no brutto lo faccio vai via a no allora sofferò 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 e la casa volò via a te aiuto aiuto il lupo scappiamo andiamo dai fratelli soccolanti a te di mattoni e si chiusero dentro ma anche lì arrivò il lupo vissero i porcellini tutti spaventati ora il lupo mi offrireste un tè e ho tanta sete no perché te lo faccio te non vuoi il tè te ci vuoi mangiare ah sì? allora soffriò 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 il lupo diventò tutto rosso e la casa non cadeva perché era fatta di mattoni ma il lupo era furbo vide un caminetto sopra la casa salì sopra ma mentre scendeva dal caminetto i tre porcellini che erano molto furbi accesero il fuoco del caminetto il lupo cascò dentro e si bruciò tutte le cose aiuto 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 siamo tre piccoli porcellini siamo tre fratelli ma nessun ci dividerà tra la 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 ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri